Una nuova protesta inscenata alla città della regionale, dove alcuni lavoratori chiedono ancora, nonostante le continue rassicurazioni e le riunioni tenute insieme all'assessore regionale Federica Roccisano, le spettanze attribuite negli anni 2014, 2015 e 2016. Una situazione paradossale che prosegue ormai da diverso tempo, un vero e proprio tira in molla tra la regione Calabria e le sigle sindacali, con la situazione però che pare ben lontana dall'essere risolta in breve tempo. Ma intanto i lavoratori sono certi, chi non ha ancora raggiunto le 36 mensilità di lavoro ha diritto alla mobilità. Degli ammortizzatori sociali fanno rientrare solo quelli del 1 gennaio 2014, mentre a noi ci facevano partecipare alle politiche attive per 800 euro al mese, solo per 6 mesi. Mentre i soldi maturati no, non ci spettano più. La mobilità, hanno detto proprio così, la mobilità è chiusa. Stanno facendo un'ingiustizia, voi Presidente Olivero lo sapete meglio di noi che è un'ingiustizia. La dottoressa Roccisano deve pure lei capire nelle situazioni in cui noi ci troviamo, in tutte quelle cose in cui lei, perché lei è laureata, si è laureata, ha dato la testa in povertà, quindi sa cosa significa, sa quello che ha studiato. Quindi noi abbiamo bisogno di avere i nostri diritti acquisiti e maturati perché non rubiamo niente a nessuno. Fatto sta che in tutte le regioni hanno pagato, mentre la Calabria come al solito è sempre l'ultimo. E non è giusto perché noi non facciamo parte di un Dio minore. Noi avanziamo le aspettanze maturate nel 2014, 2015 e 2016. Loro si sono aggrappate, o per meglio dire, la dottoressa Roccisano con i sindacati si sono aggrappate alla continuità, ma noi, ripeto, non abbiamo bisogno di continuità.